Quest'anno non potete non venire alla Biennale di Venezia, l'evento più importante al mondo per ciò che concerne l'arte. Avrete così modo di vedere dal vivo le opere di Miro Persoglia, uno dei più grandi artisti internazionali, il quale vi farà entrare in un mondo magico. Un insieme di opere pittoriche, ma dove la scultura entra a far parte della pittura, una serie di linguaggi uniti che vi porteranno nella dimensione magica dell'arte, vi farà entrare in un'altra dimensione grazie alla forza del suo colore, grazie alla forza estetica del suo linguaggio artistico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.